Se il moto mondiale è andato in pausa estiva, di certo non lo è la Formula 1, che nel mese di luglio avrà quattro grossi appuntamenti per il proseguo del mondiale. Austria, Gran Bretagna, Ungheria si includerà con il Gran Premio del Belgio, peraltro la Sportfam con Schaap oggi si è corsa alla 24 ore per quanto riguarda il GT World Championship. Invece noi parliamo di Formula 1 e andiamo al Red Bull Ring, dove in realtà non è successo molto di diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle scorse gare e negli scorsi appuntamenti. Torna di conseguenza anche il Racing Podcast sul mio canale, va detto è da un po' che mancava. Il Racing Podcast non ne parlo dai tempi di Miami, ma appunto da Miami in avanti. Di fatto la Solfa è sempre la stessa, ovvero una Red Bull dominante tendenzialmente con quello con il numero 1 in carena, che sostanzialmente vince oggi anche permettendosi un tocco di arroganza e netta superiorità. Parliamo ovviamente di Max Verstappen che nel doppio weekend austriaco, perché abbiamo avuto anche la gara sprint, quindi si permette praticamente di fare l'unplan e di allungare in un mondiale che praticamente è finito già alla nona gara, ma se dovessimo essere molto precisi è finito praticamente prima, probabilmente potremmo decretare tra Monaco e Barcellona. Una gara che per la prima posizione in Austria non è stata in realtà ovviamente in discussione, perché Verstappen e la Red Bull in questo momento sono nettamente imbattibili. Quindi quello che è cambiato in realtà è la seconda forza in campo, perché si è vista finalmente una Ferrari competitiva per i tifosi della rossa, soprattutto con un Carlos Sainz in stato di grazia in questa gara, al netto che in realtà il podio non è andato proprio al pilota spagnolo, ma è andato al suo compagno di squadra, ovvero Charles Leclerc, che è partito con una qualificazione del venerdì incredibile, 48 millesimi hanno separato l'olandese Verstappen dal monegasco Charles Leclerc, che comunque ha mantenuto la posizione che doveva mantenere, ovvero la seconda. Il distacco al traguardo in realtà è di qualche secondo, ma in realtà è un distacco fittizio, perché Verstappen si è permesso appunto di fermarsi al penultimo giro, scusatemi, per mettere le gomme rosse in modo da tenere il giro veloce, che in quel momento era a pannaggio di Sergio Perez, che è arrivato terzo al traguardo con una grande rimonta, ma sappiamo che la Red Bull è ovviamente la macchina favorita per del rimonte, partendo da lontano. Perez partiva a quindicesimo e è arrivato terzo. Va detto però che, al mio modo di vedere, l'MVP non è nessuno dei tre che è arrivato sul podio, ma è chi è arrivato quarto in classifica generale, ovvero l'altro pilota della Ferrari, ovvero Carlos Sainz Jr. Andiamo per una volta con dei premi che vanno all'inizio dell'analisi del Racing Pocket, ma non alla fine, perché il Driver of the Day è assolutamente il pilota spagnolo, perché terzo in gara sprint, prima o poi della stagione peraltro per Carlos Sainz, e quarto in gara lunga, anche se secondo me il podio se lo poteva ampiamente meritare. Sainz si merita il premio di Driver of the Day per aver difeso alla strenua su Perez, che poteva assolutamente aver ragione prima di Carlos Sainz, ma in questa pista lo spagnolo era nettamente, secondo me, il pilota Ferrari più competitivo. Tanto è vero che quando era dietro le Clerc ha provato a passare, anche con ordine di scuderia, alla fine però complice anche una pedalizzazione di 5 secondi. Alla fine Sainz ha dovuto un attimo rivedere le proprie idee e provare a lottare per il podio. Con Perez è stata una grandissima lotta che mi ha veramente appassionato ed è probabilmente quello, l'unico highlight di questa gara di Formula 1 che sta diventando sempre più un mondiale, ovviamente indirizzato verso questa Red Bull, che è ovvio che si vada a cicli, ma vedere sempre un Verstappen che faccia letteralmente quello che vuole evidentemente ammazza un po' lo spettacolo. Fatto sta che appunto Sainz fa una bellissima gara, la Ferrari in generale fa una bellissima gara perché appunto le Clerc finisce in seconda posizione ed è il secondo podio della stagione per il Monegasso che comunque dà un lampo di luce dopo Baku dove lì effettivamente si era vista una crescita importante. Dopo le gare un po' anonime abbiamo avuto un risollevamento delle prestazioni della Ferrari in Canada e quindi vuol dire che gli aggiornamenti hanno funzionato, bisogna progredire per la Ferrari in questa direzione per essere la seconda forza del mondiale, evidentemente non si può puntare a nulla di più, però vedere una Ferrari che dopo le prime gare della stagione ha arrancato avere una posizione qui sul pezzo è sicuramente qualcosa di positivo. Così come è positivo indubbiamente il mondiale di Max Verstappen che ovviamente si permette di vincere anche questa gara, andiamo a 229 punti, quinta vittoria consecutiva, settima su nuove gare, ancora una volta suona Helt Wilhelmus, sono 35 le vittorie in carriera se non sbaglio, fatto sta che appunto Verstappen ha ipotecato la pratica del mondiale già a partire da Barcellona probabilmente, la classifica che vediamo qui è letteralmente platonica, tutte le gare da qui in avanti, dirò una cosa molto forte ma scontata, sono appunto letteralmente valevoli ogni singola gara e non per l'intero mondiale, il mondiale è praticamente già finito, è a maggior ragione un mondiale più dominato paradossalmente di quando c'era Hamilton con Rosberg o Hamilton appunto con Bottas, con l'unica differenza che Bottas era un secondo pilota inferiore a questo Sergio Perez che comunque si permette di arrivare terzo con una grande rimonta, ripeto, al netto che la Red Bull è l'unica macchina che può permettersi questo tipo di rimonte, Perez fa quello che può, limita i danni, il distacco è praticamente sulle 80 lunghezze, siamo appunto poco vicino a quella cifra, arriveremo alle 100 molto breve e di conseguenza parleremo probabilmente di questi racing podcast solo in caso di gare belle o che abbiano spunti interessanti. In questo caso lo spunto interessante era la Ferrari che si è ritrovata, ha gradito questo contesto di gara e ha fatto una grandissima lotta con Perez e Sainz per il podio, poi appunto ha avuto ragione purtroppo per il TV della Rossa il messicano. Altre posizioni dopo aver parlato dei primi quattro, parliamo di Lando Norris che finisce in quinta posizione con una McLaren che finalmente dà degli aggiornamenti a Lando Norris e infatti si sono visti. Norris era l'unica McLaren in pista con degli aggiornamenti seri e infatti appunto l'inglese ha fatto la migliore prestazione in questa stagione. Quinta posizione per quanto riguarda Lando. Sesto è Fernando Alonso che è un po' in calo rispetto alle ultime prestazioni, una stomartica in questa pista si è trovata molto meno a sua giro delle altre, un po' anche come Mercedes che infatti occupa le posizioni a ritroso della classifica, in particolare settimo è Lewis Hamilton che partiva quinto, non è riuscito però a concretizzare per essere in lotta con il podio ed è comunque un passo indietro in questo caso rispetto a Barcellona e rispetto a Montreal dove appunto l'inglese aveva fatto un paio di podi. Ottavo è George Russell con una Mercedes appunto anche qui che non è più la seconda forza in campionato, probabilmente la terza barra quarta, ma Russell ha dovuto fare una gara di rimonta ed è arrivato appunto in ottava posizione partendo dalle retrovie un Russell spento qui al Red Bull Ring. Nono è Pierre Gasly con la prima delle due Alpine e chiude la top 10 Lance Stroll che continua a fare le gare del gambero con un Alonso che è sempre lo batte o nella maggioranza dei casi lo batte, Lance Stroll come una macchina del genere dovrebbe essere molto più in alto in classifica e invece in questo caso si accontenta dei punti con una certa costanza. Per una Formula 1 che tornerà già settimana prossima a Silverstone come dicevo nell'ingresso di questo video, quattro appuntamenti nel mese di giuglio prima della pausa estiva dove si recupererà tutto a Zandvoort per un mondiale in realtà, ripeto, che è più che platonico perché Verstappen l'ha praticamente già vinto, si aspetterà l'ufficialità, probabilmente assisteremo a un grosso anticipo sui festeggiamenti del campionato del mondo non che sia una novità, dei mondiali dominati ne abbiamo visti a Iosa la Formula 1 è fatta di domini spesso e è di cicli e questo è il ciclo di Max Verstappen che veramente sta facendo quello che vuole ammazzando, va detto, anche in realtà lo spettacolo e gran parte del divertimento non che sia un male, però appunto sappiamo che la Red Bull è la macchina più forte e evidentemente tocca agli altri adeguarsi a quel contesto e quindi aspettiamoci per quest'anno un mondiale ampiamente ripetitivo e con un Verstappen che potrà fare letteralmente quello che vuole vedi oggi dove si è permesso appunto il lusso di fermarsi per terzo ultimo giro, per mettere la gomma rossa per soffiare il giro veloce a Perez punto peraltro di cui non se ne faceva assolutamente niente ma appunto Verstappen in questo momento può permettersi anche questo e da un certo punto di vista, va bene così molto più divertenti invece della Formula 1 sono state le categorie propedeutiche dunque parliamo di Formula 2 e Formula 3 un Red Bull Ring che regala emozioni e tantissime penalizzazioni per penalità per aver ricevuto i limiti della pista esattamente come in Formula 1 alla fine la classifica sorrita ancora una volta al leader del mondiale ovvero Frederic Vesti che ha 20 punti di vantaggio su Theo Boucher anche se né Vesti né Boucher né soprattutto Iwasa vanno evidentemente a centrare le vittorie ne arrivano due praticamente inaspettate la prima è una maiden victory prima vittoria di carriera per Carlton Jackson Crawford pilota del Red Bull Junior Team che arriva all'esordio in Formula 2 in questa stagione e va a vincere una gara molto combattuta parliamo della sprint evidentemente del sabato in seconda posizione abbiamo invece Victor Martins che ricordiamo è il campione e regnante di Formula 3 e per regolamento ha fatto salto in Formula 2 con il Team Art terzo podio consecutivo per Martins dopo i due di Catalogna e terzo invece è Isaac Ajar anche lui un rookie probabilmente dalla Formula 3 Ajar ha corso per Hitek GP e adesso è in Formula 2 sempre con Junior Team della Red Bull al netto che in realtà il podio avrebbe ricevuto un altro francese ovvero Cleman Novalac che si è visto privare per un errore del Team Trident ovvero una pressione delle gomme sbagliata il podio che avrebbe ampiamente meritato in una gara quella della sprint del sabato che evidentemente era in condizioni miste con pista che si andava via via ad asciugare e evidentemente i valori in campo sono sballati con le strategie dei pit stop alla fine è un nulla di fatto per il Mondiale in gara 1 lo è anche in gara 2 anche se anche qui c'è una vittoria molto importante quella di Richard Werskor pilota olandese che dunque fa il bis rispetto anche a Verstappen anche per lui suona Heltville Helms mentre per Jack Crawford ha suonato Versus Spraggold Banner l'inno statunitense Werskor sfrutta una safety car si ferma evidentemente per mettere le gomme più morbide e rimonta arrivando alla vittoria battendo peraltro uno dei contender al titolo del mondo ovvero Ayumu Iwasa pilota del Team Dams ovviamente anche lo junior della Red Bull mentre Werskor non è opzionato è opzionato invece Frederick Vesti che fa terza posizione in gara 2 e il pilota del Mercedes Junior Team allunga peraltro in testa a Pursher dopo un sabato disastroso per tutti e tre i contender del campionato Formula 2 che tornerà settimana prossima a Silverstone esattamente come la Formula 3 di cui andiamo a parlare una Formula 3 che vede la lunga in classifica di Gabriel Bortoleto pilota presidiano del Team Trident che pur vincendo poco porta a casa la macchina tutte le gare e di fatto ha evidentemente nella costanza il suo punto di forza le vittorie però vanno all'Estone Paul Aron pilota appunto del Mercedes Junior Team anche lui come vesti e anche lui per Team Prema quindi suona per la prima volta in carriera l'inno Estone Musarà Musarà per il pilota fratello di Ralf che corre nel GT secondo è Gabriele Minì che fa comunque una buona prestazione in gara 1 il pilota palermitano arriva al terzo podio in questa stagione anche se purtroppo dovrà abdicare in gara 2 per problemi tecnici terza posizione invece per Caio Collè pilota brasiliano del Team Var che peraltro bissa il podio anche in gara 2 due brasiliani sul podio perché appunto il Bortoleto di cui sopra arriva nella seconda posizione e dunque allunga 111 nella classifica del campionato del mondo il più indietro inseguitore Dino Beganovic fa un weekend anonimo con un ottavo e una quinta posizione accorcia invece Zakaria O'Sullivan che praticamente è alla seconda vittoria della stagione dopo quella di Albert Park Zakho Sullivan un piatto del Team Prema un senato della Williams e accorcia due punti di distacco rispetto a Beganovic quindi O'Sullivan sembra probabilmente quello più indicato per essere l'anti-Bortoleto al netto che il brasiliano se continua così di fatto al giro di bordo della stagione ha la possibilità di chiudere i giochi molto prima che Spa e molto prima che Monza fatto sta che vedremo già settimana prossima a Silverson come cambieranno gli equilibri della Formula 3 questo dunque resta in potere per quanto riguarda il Red Bull Ring per tutte e tre le categorie principali che si ritroveranno dunque settimana prossima a Silverson in Gran Bretagna per il Gran Premio uno dei più iconici dell'intero mondiale e vedremo se per una volta cambierà qualcosa invece nella classe regina oppure come sempre Verstappen farà quello che gli pare e piace e saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo a un prossimo video Grazie a tutti